L'onore in sante ed individuo e trinitatis, ad exaltazione in fidei cattolici, ed vite cristiane incrementum, autoritate domini nostri, Iesu Christi, beatorum apostolorum peti et paoli, e a nostra natura deliberazione preabita, e divina ope sepius implorata, ad deplorimorum fratrum nostrum concilio, beatam teresiam de Calcutta, santam esse discernimus e definimus, ad santorum catalogu ascrivimus, statuentes ean in universa e ecclesia, intersantos, pia devoción in récule de vere, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen. Chies! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.